I casi di infezione da meningococcoci in Toscana che abbiamo avuto sia nel 2015 e che proseguono nel 2016 sono un aumento rispetto all'atteso. Sono in aumento, è vero, ma parlare di epidemia è eccessivo. Si è passati da un'incidenza dello 0,25 per 100.000 abitanti ad 1 ogni 100.000. Dall'inizio del 2016 i casi di meningite accertati nella provincia di Arezzo sono 3, in Toscana in tutto il 19, 16 di tipo C, l'ultimo solamente alcune ore fa, 2 di tipo B ed infine 1 di tipo W. Ma più che parlare di epidemia, suggerisce la dottoressa Maria Teresa Maurello, sarebbe meglio parlare di un aumento rispetto ai casi attesi, ossia quelli degli anni precedenti. Un aumento che desta chiaramente la necessità di attenzione e di intraprendere delle azioni per arginarlo perché non mostra di ridursi purtroppo. Noi ci aspettiamo che lo faccia e soprattutto ci attendiamo che il numero di casi si riduca drasticamente quando la popolazione interessata sarà adeguatamente protetta, cioè vaccinata. Prosegue intanto la campagna a favore della vaccinazione contro il meningococco di tipo C in tutta la Toscana. La vaccinazione offerta è una vaccinazione che non contiene il batterio per intero. Il contenuto è limitato ad alcuni zuccheri di superficie coniugati con proteine per indurre una risposta immunitaria adeguata. Quindi il vaccino non può assolutamente indurre l'infezione ed è in pratica formulato in modo da indurre una risposta immunitaria rapida e prolungata nel tempo. Si sono comunque registrati anche alcuni casi in persone che erano state vaccinate, come ad esempio l'ultimo episodio avvenuto in Toscana che ha colpito una 58enne residente a Santa Croce sull'Arno. In generale nessun vaccino dà una protezione del 100%, il che vuol dire che su 100 persone vaccinate di solito circa il 4-5% non risponde in modo adeguato al vaccino.